Leggo tra i commenti, ecco una nuova acherofobia, un'altra Martina Attili che solo perché fa tenerezza va avanti. E il concept lo capisco, mi è chiaro quello che dicono. Anch'io magari ho pensato, ah, questa ragazzina così piccola adesso sicuramente conquisterà i giudici con la sua tenerezza. È un'arma, è un'arma, come tante cose, ma io non credo che sia questo il caso. Anzi, tutt'altro. E già dalla cover che ha portato sta ragazza si capisce lo spessore. Ragazzi, perché comunque ha portato una cover di un brano molto particolare, di un gruppo molto importante, però che non è AIPU. È un gruppo che non è che dice nuove generazioni conoscono. Ha portato una performance molto sincera e molto se stessa e non è facile a quell'età. Non è facile, ma soprattutto c'è una differenza. Questa non è la storia di una ragazza che ha scritto un testino mediocre, buttato lì, che però ha una melodia che è dolce, che entra in testa e che è subito hit. No, non è questa la storia, assolutamente. Questa è la storia di una ragazzina che ha fatto un tentativo, che si vede che conosce con mano la sofferenza. Già che si dichiara comunque con la sua maglietta femminista, cioè al di là l'ideologia quando sei così giovane, è comunque sintomo che sei una persona sensibile, una persona che conosce, sa cosa vuol dire vedere i propri diritti calpestati, altrimenti non te ne fai portavoce a un'età così giovane, ecco. Non ti schieri, perché nel momento in cui tu porti una maglietta così ti sei già schierata. Lei invece si vede che è una ragazza che vuol farsi valere, che vuol raccontare se stessa perché si sente vittima di qualche ingiustizia. Ecco. Quindi io non la paragonerei alla Martina Attigli, che ha fatto una canzone che per la sua età, per il contesto in cui è stata presentata, era perfetta. Era già una hit popolare, proprio una melodia dolce, che non è intoccabile, ok? Punto. Quella la senti, ti entra in testa ed è già hit. Apposto. Questa ragazza ha portato un brano particolare, difficile, che comunque ha una melodia che non è poi così scontata o che ti entra in testa. L'ha fatto suo, l'ha fatto suo. Non ha fatto una copia dell'originale e soprattutto era autentica, cioè è bello vedere una ragazzina che diventa tutta rossa, che si emoziona in quel modo. Cioè questa è una di quelle persone che non è che hanno bisogno di dire troppo, ma trasmettono anche col silenzio. Io non la sottovaluterei. Anche perché la ragazza è acerba, sì, deve migliorare, ha 17 anni, è una ragazza che è completa, ha già una sua personalità ed è pronta al prossimo step? Probabilmente no. Però sicuramente è pronta per essere nuovamente esaminata e per capire se ci si può lavorare. Ecco, questo sì, assolutamente. Quindi io direi che bisogna vedere anche adesso come si reinventa, che cosa farà, che cosa porterà, come si può lavorare su questo talento grezzo. Però la ragazza non la paragonate alla Martina Attili perché la differenza tra la Martina Attili e questa è che la Attili si è presentata già come un prodotto basato sulla tenerezza. Perché la sua canzone, Cherofobia, portata da un 25enne, sarebbe stata una bufala. Perché racconta le solite quattro problematiche adolescenziali banali senza neanche andare a fondo, ma nel modo giusto e cantate con la melodia giusta e ha funzionato. Ma lei era già un prodotto, un prodotto adolescenziale, una teen idol già pronta. Ed è stata così. Questa ragazza qui non è, cioè, è tutto tranne che un prodotto. Per questo io sono contento che vada avanti.